Sempre meno vaccini, prosegue il ritardo nelle forniture, anche la prossima settimana la Pfizer ne consegnerà il 20% in meno. Si pensa a un'azione legale, adesso 6 italiani su 10 si dicono scettici se fare il vaccino oppure no. 13.000 nuovi casi e l'indice di contagio che scende sotto l'uno, i dati di oggi in lieve calo, rischio alto in Sicilia, Sardegna, Umbria e Alto Adige, braccio di ferro tra Ministero e Regione Lombardia che chiede di tornare arancione. Lavorare per un mondo senza armi nucleari, così il Papa oggi in occasione dell'entrata in vigore del trattato ONU che rende illegale il possesso delle atomiche, ma all'accordo non hanno aderito le nuove potenze nucleari mondiali, anche l'Italia non ha firmato. Sgomento e dolore per la scomparsa di Antonella, la bimba morta a Palermo dopo una sfida di soffocamento su internet, minori sempre più fragili e più esposti, dice al G2000, il direttore del centro educazione ai media e aggiunge ripartire dalle responsabilità degli adulti. Un canto di speranza in un tempo difficile esce oggi Cattive stelle, l'ultimo brano di Francesca Michelin. In un anno assurdo, dice la cantautrice, volevo incoraggiare a guardare avanti e parlando del futuro, aggiunge, dovrà essere per forza una valigia leggera con dentro soltanto l'essenziale. E buonasera a tutti voi dal TG2000. In apertura dunque la questione vaccini. Anche la prossima settimana l'Italia avrà il 20% in meno delle dosi previste. La campagna vaccinazioni perciò procede a rilento e adesso si aggiunge pure lo scetticismo degli italiani. 6 su 10 hanno ancora dubbi. Il servizio d'apertura di Letizia Davoli. Continua la bufera in Italia e in Europa sulla sospensione delle forniture dei vaccini da parte dell'App Pfizer. Alle continue rassicurazioni del colosso americano che garantisce la ripresa già dalla prossima settimana delle consegne, l'Italia ha deciso di rispondere previe legali con un ricorso all'esame dell'Avvocatura dello Stato. Secondo le informazioni, in possesso del nostro paese infatti, dopo il taglio del 29% alle forniture di questa settimana, ne seguirà uno pari al 20% per la prossima. Un callo che ha messo in crisi la campagna vaccinale che dopo i primi giorni aveva preso ottimi ritmi. Lazio e Toscana infatti hanno annunciato lo stop alla prima dose per gli over 80 e tutte le regioni stanno attingendo alle scorte messe da parte per il via alle seconde dosi come da protocollo, rinviando l'inizio della vaccinazione su larga scala. Una prima e unica ditta produttrice, abbiamo voluto utilizzarla e ovviamente in una fase iniziale, problematiche di produzione, problematiche di distribuzione, io temo dovevano essere considerate e comunque rappresentano l'inizio di un meccanismo che a mio avviso verrà poi a oliarsi. Sono oltre 1.300.000 le somministrazioni effettuate finora, 36.358 gli italiani che hanno già ricevuto entrambe le dosi. La preoccupazione per l'inizio delle vaccinazioni a tappeto, gli italiani sono pronti a vaccinarsi anche se secondo uno studio dell'Università di Padova, sei italiani su dieci hanno molti dubbi sulla necessità di una immunizzazione di gregge. Veniamo allora all'andamento della pandemia in Italia, rischio alto in quattro regioni, Sicilia, Sardegna, Umbria e Alto Adige. Eppure dal report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità cala sotto l'uno l'indice di trasmissione attesa per la nuova ordinanza. Beatrice Bossi. Qualche buona notizia e diverse altre che obbligano a tenere alta la guardia. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità lascia pochi spiragli di luce. Il primo, se non l'unico, l'indice di contagio a livello nazionale diminuisce dopo cinque settimane in crescita e arriva sotto quota 1. Siamo a 0,97. La lente di ingrandimento sulle singole regioni però smorza ogni entusiasmo. Sono 12 quelle che soffrono la pressione ospedaliera con un tasso di occupazione delle terapie intensive che supera la soglia critica. Il report inserisce poi quattro regioni nella fascia di rischio alta, Sicilia, Sardegna, Umbria e Alto Adige. 11 in quella moderata, come vediamo in grafica, e 6 a rischio basso. È su questi dati che il Ministero della Salute definirà i colori delle regioni nella prossima ordinanza e che per il momento tiene con il fiato sospeso i governatori di tutta Italia. La Lombardia, in zona rossa, rivendica ancora il passaggio alla zona arancione. Il Tribunale amministrativo si pronuncerà lunedì, ma ancora pochi minuti fa il governatore, Attilio Fontana, lanciava su internet post al veleno contro il governo. La Sardegna, oggi gialla, precipiterà probabilmente in zona arancione. L'Umbria, che nelle ultime settimane ha visto peggiorare i suoi dati, rischia di retrocedere in zona rossa. Chi ha registrato invece miglioramenti, come il Veneto e il Trentino, dovrà aspettare. Il decreto prevede due settimane di stabilità prima di fare balzi in avanti. Come abbiamo sentito, un caso a parte. La Lombardia, che dopo il rinvio a lunedì della sentenza del Tar, oggi insiste nel chiedere, ma questa volta al Ministero, di tornare arancione. Tensione fra il governatore Fontana, che rivendica dati sempre corretti nelle comunicazioni con Roma, mentre il Ministero riferisce invece di una nota di ieri del Pirellone, in cui si ammettevano errori nell'invio dei dati di contagio dei giorni scorsi. Allora, su questo il nostro Luciano Piscaglia ha raccolto a Bergamo le reazioni della popolazione. Vediamole. Sono momenti particolari, però abbiamo fiducia, fiducia che ci sia un futuro. Penso che prima o poi finirà sta cosa, quindi prima o poi si tornerà tutti a vivere normalmente. Anche perché noi ci sentiamo, abbiamo già dato, diciamo così, brutalmente. Mi sembra una zona rossa per modo di dire che sono tutti in giro, non c'è controllo, non c'è niente, solo in città vedi poca gente. Forse sarebbe meglio un lockdown totale, come abbiamo fatto a marzo, e vedere un attimino come girano le cose. Noi abbiamo cambiato molto tra rosso e arancione, però con l'arancione c'è un po' di negozi aperti, allora sembra che ci sia un po' più di gente. Così proprio è. Ci sono tante incongruenze in questa situazione, quindi cerchiamo di collaborare per superare il momento critico. Arrivato a un certo punto non si sa più cosa pensare e soprattutto cosa fare. Quindi non si hanno le idee chiare, confuse, e la gente di questo ne risente, credo. Però, d'altronde, siamo così in tutto il mondo, quindi si va avanti. Poi siamo bergamaschi, quindi non molliamo, andiamo avanti così. Adesso uno sguardo ai dati di oggi, li vedete, i nuovi positivi sono 13.633, mentre sono 472 coloro che hanno perso la vita a causa del Covid. In generale, numeri in leggero calo. La corsa del virus nel resto del mondo. Cominciamo dall'Europa dove si valuta, pensate, l'istituzione di una nuova fascia, la cosiddetta zona rosso scuro per i focolai più virulenti. Paura poi per la variante francese e in Cina il contagio sembra ripartire. Cesare Cavoni. Zone rosso scuro, accelerazione dei tempi per l'approvazione di nuovi vaccini e mutuo riconoscimento dei test diagnostici per il Covid-19. Sono le principali linee di intervento uscite dalla videoconferenza tenutasi ieri sera tra i capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'Unione Europea. Misure mirate per mantenere i cittadini in sicurezza. Alle persone che partono da zone rosse scure possono essere chiesti test prima di partire e la quarantena dopo l'arrivo, mentre dovranno essere scoraggiati tutti i viaggi considerati non essenziali. In Germania intanto sono più di 50.000 le persone che sono morte dopo aver contratto il coronavirus, mentre sono oltre 2 milioni quelle contagiate. E c'è allerta massima in Francia per una possibile nuova variante Covid-19 finora sconosciuta. Al momento è solo un'ipotesi, ancora da confermare, dettata dalla improvvisa impennata di contagi che si è registrata in alcune aree del Paese senza un apparente motivo. I test effettuati hanno già permesso di escludere che si tratti di contagi da variante britannica. La Gran Bretagna intanto pensa ad un bonus Covid da 500 sterline per chiunque risulti positivo al virus. L'idea nasce dalla preoccupazione che attualmente solo il 17% di chi accusa sintomi si sottopone al test. Stretta delle misure, coprifuoco invece in Olanda è il primo coprifuoco a livello nazionale dalla Seconda Guerra Mondiale. In Cina le autorità sanitarie di Pechino hanno avviato una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus, soprattutto in quei quartieri dove negli ultimi giorni si è registrato un aumento dei contagi. E c'è un posto nel mondo completamente libero dal Covid ma nonostante ciò la vita è tutt'altro che serena. È il regno di Tonga, un arcipelago di 173 isolette nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Pensate che da loro finora non è stato registrato neanche un caso di coronavirus perché sin dall'inizio Tonga ha chiuso i confini e vietato tutti i viaggi. Il prezzo pagato però è stato altissimo per l'economia e il turismo crollato. E nel mondo sono dispersi tanti cittadini di Tonga che dovevano rientrare ma ai quali non viene permesso per motivi sanitari. Un caso insomma davvero singolare. Siamo così alla politica. All'indomani dell'inchiesta per Ndrangheta che porta il segretario Udc Lorenzo Cesa alle dimissioni il governo fa più fatica a cercare una più ampia maggioranza. Oggi incontro di Conte con i sindacati sul Recovery Plan. Federico Plotti. Di tempo ce n'è poco e in quello che rimane il presidente Conte deve trovare una nuova maggioranza capace di sostenerlo. Mercoledì prossimo arriverà la prima vera prova del fuoco quando il ministro Bonafede si presenterà in aula per la relazione sullo stato della giustizia già sapendo di avere contro oltre alle opposizioni anche Italia vive forse alcuni dei senatori dal gruppo misto alle forze liberali e di centro che martedì sera hanno votato la fiducia al premier. I numeri sono risicati soprattutto a Palazzo Madama dove la maggioranza assoluta è ancora lontana. In queste ore si sondano tutte le opzioni per il rilancio dell'azione di governo con un nuovo patto di legislatura caldeggiato da PD e Movimento 5 Stelle e un rimpasso di governo. Non basta però solo la sostituzione di alcuni ministri. Bruno Tabacci, leader del Centro Democratico ed esponente dei cosiddetti costruttori ha chiesto un nuovo governo Conte durante l'incontro di oggi a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio. Io penso che la possibilità di rafforzare la maggioranza c'è ma passa attraverso un governo nuovo. Vedremo se ci saranno le condizioni per un rilancio del governo se ci saranno bene e in ogni caso noi non temiamo le elezioni. Ma a complicare una situazione già di per sé difficile arriva il caso di Lorenzo Cesa segretario dell'Udc adesso dimessosi coinvolto in un'inchiesta sull'andrangheta. Una pesante tegola che cade sulla strada dei negoziati con i costruttori da raccogliere in Senato a sostegno di Conte proprio sotto la sigla dell'Unione di Centro. Intanto oggi il Premier ha incontrato le parti sociali sul recovery plan, il piano di investimenti e riforme per rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria utilizzando i fondi stanziati dall'Unione Europea. Nei prossimi giorni verranno definiti tavoli di confronto per settori con i sindacati e i ministri direttamente interessati. E sarà dedicata proprio alla pandemia da Covid la sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI. Appuntamento alle nove e mezza di martedì prossimo 26 gennaio quando il parlamentino dei Vescovi si riunirà in videoconferenza. Una nota informa che i lavori introdotti dal cardinale presidente Gualtiero Bassetti prevedono una riflessione e un confronto specialmente sulla religiosità in tempi di pandemia per capire come affrontare le sfide pastorali. All'ordine del giorno anche la prossima assemblea quella generale dei Vescovi e la giornata mondiale della gioventù. L'emergenza sanitaria lo sappiamo significa anche emergenza sociale perciò la Caritas di Roma ha attivato interventi straordinari per le persone più povere oltre 750 milioni di euro in cibo e beni di prima necessità. Clara Iatosti Continuano ad allungarsi le file nelle mense Caritas la pandemia ha creato nuove sacche di povertà e chi era già in difficoltà ora è allo stremo. Un buon progetto di solidarietà è stato siglato oggi nella capitale con l'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Lazio. All'emporio della solidarietà arriveranno prodotti freschi e di qualità a chilometro zero. Un intervento straordinario per le persone sole e le famiglie indigenti. Abbiamo avuto un'esplosione di richieste di aiuto alimentare da parte delle famiglie e quindi ci siamo dovuti organizzare. Con l'evento di quest'oggi aggiungiamo un tassello in più perché riusciamo a garantire un paniere più ampio di alimenti freschi tra carne, formaggi, verdura e frutta. L'iniziativa destina 750 mila euro derivanti dalla mancata partecipazione dell'Agenzia Arsial alle fiere e alle altre iniziative promozionali a causa dell'emergenza Covid all'acquisto di aiuti alimentari per l'Emporio Caritas. Un modo per aiutare anche le aziende agricole del territorio messe in ginocchio dalla crisi da coronavirus. Fra i nodi aperti legati alla pandemia, a quello del trasporto pubblico in particolare sugli autobus. Allora una nostra troupe è andata nel pomeriggio davanti alla stazione Termini a Roma uno degli snodi più affollati di autobus e passeggeri proprio per capire se e quanto si viaggia in sicurezza. Luigi Ferraiolo. Sui mezzi pubblici non c'è distanziamento, non c'è sicurezza, non c'è nulla però si lamentano poi che non fanno, cioè chiudono bar, ristoranti alle 18 quando poi sui mezzi il distanziamento non c'è per cui penso sia assurda come cosa. Troppa gente sugli autobus ma anche in metro e tram negli orari di punta. Si salvano solo i treni ordinati a mezza capienza ma se riaprono le scuole che cosa accadrà con i mezzi pubblici? Molte persone hanno paura anche se non manca chi non ha timore. Senti, ti senti sicura sulla metro, sul treno oppure no? Non tanto perché è sempre pieno di persone e sulle sedie poi ci si mettono, anche se c'è scritto una sedia sì o una no alla fine sono sempre piene perché ci sono troppe persone. Ma dove succede questo? Specialmente a Termini, a Spagna, diciamo alle metro un po' più utilizzate sul treno invece è più tranquilla la cosa. Diciamo che in bus ci sta un sacco di gente non c'è tutto questo spazio eccetera. Non è un caso che piazza di 500 a Roma davanti alla stazione Termini assomigli solo vagamente a quella che fu la coda dei tassisti immobili è enorme così come il flusso di persone intorno alle 4 del pomeriggio prima del rientro a casa definitivo un decimo forse di quello anti-lockdown. Quando non c'era il co-virus tutti i giorni per il lavoro e adesso una volta ogni tanto, secondo le necessità. E si sente tranquillo a prenderlo? I bus sono a metà capienza, sono affollati? Le dotazioni sì, anche perché così gioco forza i viaggiatori sono obbligati all'educazione. Aule universitarie di nuovo aperte ad annunciarlo il ministro Gaetano Manfredi durante una videoconferenza. Il titolare dell'università e della ricerca ha precisato che le lezioni torneranno in presenza dalla seconda metà di febbraio ma con aule al 50%. Ho sollecitato i rettori a predisporre piani per la riapertura ha detto il ministro che ha anche ventilato l'ipotesi di allungare l'anno accademico. Passiamo adesso agli esteri e vogliamo negli Stati Uniti all'era di Joe Biden le priorità del neopresidente fra emergenza, sanitaria, economia e stop al razzismo. E poi il primo discorso della First Lady Jill che ringrazia gli insegnanti. Massimiliano Cochi. Un ordine esecutivo per velocizzare l'invio degli assegni alle famiglie colpite dagli effetti del coronavirus un altro per potenziare il programma di aiuti alimentari e un terzo per stabilire che la paga minima per i lavoratori federali sarà di 15 dollari l'ora. Dopo il piano antipandemia il presidente Joe Biden cerca di rafforzare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà e per il rilancio dell'economia. Per ora si tratta di ordini esecutivi ovvero provvedimenti del presidente che presto però saranno portati all'attenzione del congresso per essere trasformati in legge. La lotta alla pandemia si conferma dunque una delle priorità del nuovo presidente che ha promesso 100 milioni di americani vaccinati nei primi 100 giorni del mandato. Un cambio di passo salutato con sollievo dal virologo Anthony Fauci che ha definito liberatoria la sensazione di poter parlare alla Casa Bianca di quello che si sa e di quello che è scientificamente provato riferendosi al rapporto molto contrastato avuto con Donald Trump e dell'impegno contro il virus ha parlato anche la First Lady nel suo primo intervento pubblico. Jill Biden, in un intervento via internet, ha voluto dedicare un ringraziamento speciale agli insegnanti. Siete stati estremamente forti durante la pandemia. Ora è il momento per noi di essere forti per voi, ha aggiunto, riferendosi appunto all'impegno preso dalla nuova amministrazione della Casa Bianca. Jill Biden è un insegnante e ha già fatto sapere di voler continuare a lavorare nella sua scuola e il community college sarà così la prima First Lady a mantenere un lavoro a tempo pieno. In viaggio dalla Romania verso la Francia chiusi in un tir l'incredibile vicenda di sette minori afghani fra 12 e 17 anni tutti salvi per fortuna. I ragazzi sono saliti di nascosto sul mezzo e hanno anche dovuto pagare mille euro a testa a un trafficante erano rinchiusi da almeno due giorni infreddoliti e affamati. Il conducente è risultato però estraneo ai fatti. In vigore da oggi il trattato contro le armi atomiche ma l'Italia non aderisce. Campane a festa in molte diocesi italiane anche il presidente Cei Bassetti firma il documento dei leader cattolici mondiali l'appello del Papa. Barbara Masulli Nel tweet pubblicato poche ore fa dal Papa l'incoraggiamento a promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari. Un passo importante in questo senso è stato compiuto oggi perché è entrato in vigore il trattato per la messa al bando dell'atomica firmato dalle Nazioni Unite nel 2017 che era stato premiato quattro anni fa con il Nobel per la pace. Il provvedimento proibisce agli 86 stati che vi aderiscono di sviluppare, testare, produrre e possedere gli armamenti o anche solo consentire alle testate di stazionare sul proprio territorio. La Santa Sede è fra i primi firmatari dell'accordo sul quale non ci sono invece i nomi delle nove potenze nucleari Russia e Stati Uniti in testa e neanche quelli dei loro alleati, Italia compresa. È chiaro però che rendendo illegali le armi attraverso un trattato internazionale le industrie troveranno sempre più difficoltà di produzione e si andrà, si spera, verso il disarmo. L'entrata in vigore del trattato è stata accolta con favore dai leader della Chiesa Cattolica di tutto il mondo a partire dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana Bassetti. La peggiore di tutte le armi di distruzione di massa è stata da tempo giuricata immorale adesso è anche finalmente illegale. Si legge in un documento in cui i cattolici esortano gli altri paesi a unirsi al provvedimento. Fine settimana di maltempo quello che si apre sull'Italia dalla protezione civile arriva per la giornata di domani un'allerta arancione per tre regioni e per gialla in altre sette Liguria, Emilia Romagna, Toscana le aree più a rischio esposte a un vasto fronte temporalesco sul resto del paese in particolare sul centro-nord però fino ad Abruzzo e Molise temporali e nevicate con venti forti. Torniamo sulla vicenda della piccola Antonella la bambina morta a Palermo per una sfida estrema su internet i servizi di Fabio Bolzetta e Silvia Sacchi vediamo Challenge, ovvero sfida giochi o balli le più innocue ma poi si sono diffusi anche i blackout challenge sfide all'estremo non è il caso di fare esempi una di queste avrebbe portato alla morte della bambina di dieci anni di Palermo si ipotizza su TikTok il diffusissimo social di contenuti video realizzati con il proprio smartphone la sorellina l'ha trovata soffocata donati gli organi per volontà dei genitori andranno a quattro bambini in attesa di trapianto sulla solitudine dei ragazzi il direttore della pastorale giovanile della CEIDO Michele Falabretti sottolinea i genitori li lasciano usare i dispositivi purché stiano buoni il richiamo va prima di tutto a chi i ragazzi li sta dimenticando a casa senza scuola la procura che ha disposto l'autopsia del corpo sta indagando e ha sequestrato il telefono della bambina il problema sono generazioni giovani generazioni sempre più fragili e proprio perché fragili sempre più esposte al rischio il problema sono anche le responsabilità educative degli adulti devo dire forse soprattutto le responsabilità educative degli adulti allora che cosa fare? credo che l'unica strada sia educare il senso critico e la responsabilità parlare parlare tanto condividere il più possibile con i più piccoli i loro consumi i loro dubbi rispondere alle domande passare tempo con loro questi atti come si possono evitare? immagino sicuramente con un controllo non più stretto ma più attento da parte dei genitori soprattutto in un periodo simile in cui magari i ragazzi sono spinti a fare cose estreme banalmente per occupare il tempo per coprire le mancanze che subiscono in questo momento però secondo me è molto rischioso perché sono cose che se non gli stai dietro e non stai attento possono fare dei danni ai bambini i genitori come dovrebbero comportarsi? togliere il telefono assolutamente magari controllarli un po' di più non ci sono limiti purtroppo non possiamo controllarli in tutto e per tutto nei limiti del possibile si dovrebbe cercare di insegnargli le cose più che limitarli cioè bisognerebbe utilizzare questi mezzi per ciò che può essere utile ma non esagerare si abitua a stare tutto il giorno al telefono e poi non vuole giocare non vuole fare niente non vuole fare i compiti io non penso che sia il social media quello che porta i ragazzi a fare determinate cose ma magari è la mancanza di un determinato tipo di educazione stanno attaccati ai telefoni per vedere i cartoni TikTok TikTok può essere anche pericoloso che vende una cosa su internet la vogliamo fare quello è il problema sua figlia le chiede il telefono spesso? no non me lo chiede però mi chiede di vedere i cartoni e quindi automaticamente li faccio vedere lì non mi piace molto questa cosa cercherò di tenerlo il più possibile lontano finché si può adesso guardiamo insieme queste immagini arrivano da Firenze tornano a splendere i mosaici trecenteschi del celebre Battistero grazie a un complesso intervento di restauro appena conclusi i lavori su quattro degli otto lati che raccolgono figure di profeti vescovi cherubini si punta a concludere il restauro entro il 2021 durante i lavori utilizzata una nuova tecnica con la cosiddetta cera pigmentata utilizzata per coprire cioè il bianco del calcare ha reformato sia a causa delle infiltrazioni di acqua i mosaici del Battistero furono realizzati utilizzando anche i cartoni di grandi maestri come Cimabue e siamo alla musica con il brano di Francesca Michelin dal titolo Cattive Stelle un disco che unisce artisti e amici di generi diversi e parla comunque di un futuro speriamo promettente Silvio Vitelli una storia d'amore incastrata nel presente ma che parla di futuro un futuro di ripartenza visto che il momento attuale è ai noi sotto l'infausto influsso delle cattive stelle come il titolo della nuova canzone di Francesca Michelin è stato un anno assurdo e questa cosa delle stelle cioè io sono super appassionata di stelle è come se fosse proprio partire con una valigia molto leggera e iniziare l'anno in una maniera completamente diversa quindi sono proprio contento di farlo con te perché ho un certo tipo di sensibilità con lei in questo brano lo scrittore e cantautore ferrarese Vasco Brondi una delle tante collaborazioni del suo album Fit il cui secondo capitolo vedrà la luce nella settimana di Sanremo e conterrà anche la canzone con la quale Francesca si presenterà su quel palco insieme a Fedez guarda tramonta un'era guarda tramonta ora guarda tramonta un'era che in realtà è anche un inizio e mi piaceva il fatto che anche questa storia intima fosse ambientata nel mondo contemporaneo nella realtà che stiamo vivendo adesso che è un nuovo inizio perché i tempi sono sempre di transizione e quindi è sempre un nuovo inizio ma forse adesso lo sentiamo tutti assieme in modo più più forte